Siamo Vibrazioni Air Design e il nostro quartiere generale è a Massa Lombarda, una piccola cittadina in mezzo alla campagna della Romagna più veloce. Perché indossiamo le maschere da saldare? Beh, è chiaro, questione di stile. Ognuno di noi indossa una maschera che ci fa apparire sotto un'altra luce agli occhi degli altri. Consapevoli di questo, appunto, abbiamo deciso che la nostra vera faccia è questa. Tutto quello che ci passa sotto le mani è modificato e reso unico, utilizzando sempre e comunque la nostra poetica, che è rigorosamente quella di usare lamiere di bidoni dell'olio recuperati per realizzare oggetti di arredamento e moto. Il nostro cliente zero, Rocco Sifredi, l'abbiamo conosciuto dopo il primo salone del mobile a Milano nel 2007, ci ha voluto per allestire un suo spazio a Budapest con i nostri materiali. E poi era un grosso spazio. Lord of the Bikes è una competizione tosta che ci farà dare il massimo che potremo. Io spero tanto di divertirmi, perché noi tanto si fa arredamento. Grazie a tutti.